Taleb 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 Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Signora, felice a te. Sì. Sì, signora, signora. Sì. Non ci sono più a me. Sì, signora. Io cosa che ci darò a давайте… Io qui. Allora, io, Rocco, ecco. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Isque, signora. ciao ti chiede il ratto caldò mi ti machia mie di ratto mi ti rei di ratto ma chiquito è mi ti machia mie di ratto caldò caldò sì sì me t'attende sì alò senora alò senora il ratto ei ti fanno con la caia di un computer senora tecara tontano questo sì Pedro è un ratto tecà miiele che non toque me temi perché di ratto con quel di gioco mi ti machia mie Sì, 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 sì. Signora, è mi serva di un porto usb Che cos'è? E che onda? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Signora, signora Mi sono collegato a un computer Ah, è collegato a un computer? Ah, ok Mi sono collegato a un computer Non, non, non Mi sono collegato a un computer Non c'è un computer Non c'è un computer Non, non, non Senora, non c'è un screw dry Ah, non c'è un screw dry? Pedra, non c'è un screw dry Non c'è un screw dry Signora, signora Maia è Si, si, si Se sei, ti accorde a mio nome? Sì, sì Signora, si Mover, rive la pantalla Vai, camina con la signora Mi sono collegato a un computer Mi sono collegato a un computer Maia è una cosa ücchia, si Maia è una cosa Miraje è un è un computer Normalmente, maia è una cosa Che cos'è Maia è un computer Maia è una cosa Vi faccio Vi faccio mi stiamo parlando e mi portaria a te metto a un perro a pronuncia